Un po' di pubblicità! Un po' di pubblicità! E adesso andiamo di supposte! Per questo ci serve che faccia finta di essere costipata per provare la nuova supposta incandescente! Vieni attrice, vieni! Ecco qua, adesso prendiamo la supposta! L'attrice andate via! Veloce! Qualcuno, qualcuno che sia costipato! Dobbiamo provare questa magnifica invenzione! No, no, no! Infatti è veloce e veloce! Ma ci sarà qualcuno che si fa! Oddio! Oggi non si riesce a fare la pubblicità! Ma è un peccato! Ma guardate che funziona! Comunque voi compratela! La nuova supposta incandescente!